Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale, il canale dello strano nerd. Oggi, come avete detto dal titolo, come vi ho annunciato poi nella live di ieri, parte il blog dello strano. È un format che ho ideato io recentemente per poter portare nuovi contenuti oltre ai soliti videogiochi. Parlerò un po' di tutto, passando dai film, andando per i videogiochi appunto, e cercherò di trovare argomenti andando sui social ogni tanto, magari Facebook, Instagram, qualche notizia che magari ha bisogno di un po' di attenzione da parte mia e lo comunque porterò sul canale. Logico che cercherò di concentrarmi sempre di più su videogiochi, film, questa è un po' l'argomentazione che porterò su questo format. Datevi una possibilità, anche perché poi comunque ha possibilità di dibattito, quindi qualora non fosse d'accordo con me, o magari aveste delle idee differenti a riguardo su certi aspetti del mio discorso, ditemeli pure che io comunque nei commenti sapete benissimo che rispondo sempre volentieri. Partiamo da questo primo video che parla appunto del film di Uncharted, dove ho sentito tante critiche prima dell'uscita del film, perché comunque sulla base di questo film c'è il videogioco. Il videogioco che ha riscosso tanto successo, quindi c'era tanto scetticismo perché comunque in passato portare un film emulato da un videogioco ha sempre deluso, anzi magari per la maggior parte delle volte ha deluso. Per quanto mi riguarda io ho un'esperienza importante anche alle spalle, perché io ho amato la saga di Tomb Raider e quando poi hanno fatto il film purtroppo non è stato, non è stato proprio, diciamo che non è stato, secondo me, secondo me, potesto parere, trattato bene, trattato bene per quanto riguarda poi comunque la saga proprio di Lara Croft, purtroppo hanno sbagliato secondo me tutto. Era basato poi comunque Tomb Raider su un remake, quindi su un nuovo inizio di Lara Croft che ha portato poi dopo a fare quel tipo di film. Chi poi è appassionato della saga lo sa. Comunque senza dilungarmi troppo, Uncharted per me è stato un film azzeccatissimo. La gioco che non faccio spoiler, ci mancherebbe altro per chi poi deve andare ancora a vederlo, vi invito ad andarci e soprattutto non siate scettici ancora prima di aver toccato con mano il contenuto, ragazzi, perché è sbagliatissimo, secondo me, l'ho provato sulle mie mani, giungere con cose affrettate non porta a niente di buono. Tante volte è meglio farsi un'idea propria piuttosto che ascoltare gli altri per sentire te dire, aspettare poi di essersi presso un capolavoro, perché poi comunque insomma andare al cinema a vedersi un film sarà sempre diverso piuttosto che stare a casa aspettando che arrivi o su Netflix o sulle varie piattaforme o addirittura in DVD, Blu-ray, insomma, come lo comprenete poi voi. Ci sta un discorso importante intorno che è quello del Covid, che sicuramente ci ha tagliato un po' le gambe a tutti quanti, perché dal 2020 a questa parte non siamo più riusciti a vivere la nostra vita quotidiana, e questo è già un qualcosa che ci ha dato, in senso negativo, la possibilità di stare a casa e aspettare che le cose vengono direttamente da noi, così come appunto tiro fuori Netflix, ma come possono essere tante altre piattaforme che ci danno la possibilità di vedere i streaming, questi film che poi comunque escono delle sale prima di tutto. E vi voglio ricordare che il cinema fa parte della nostra vita, nel senso che il cinema è importante, il cinema ci accomuna, ci fa stare insieme e ci dà un modo, come un altro, di vivere un'ora e mezza, barra due, di interesse rispetto a uno schermo, rispetto a un contenuto, rispetto a un contenuto video, e mi sembra giusto, mi sembra giusto dare la possibilità a quelli che hanno lavorato per quel film una visione importante. Poi, logico, ci può essere film che non vi piace veramente per quanto riguarda proprio la base, cioè se un film non vi piace per il contenuto, che possa essere horror, che possa essere d'azione, eccetera, eccetera, voi preferite altri generi, ci sta, ci sta. Però in questo caso, se siete amanti di Uncharted, è un qualcosa che dovete per forza di cose vedere, secondo me. Merita una menzione speciale, veramente Tom Holland, Mark Wahlberg, il cast, secondo me, azzeccatissimo, è riuscita a tenere, attaccata allo schermo, anche la mia donna, che lei era molto scettica, ma lei non vive il videogioco come magari lo possiamo vivere noi, l'ha tenuta lì, l'ha tenuta lì di solito, lei quando si disinteressa di qualcosa, tecnicamente tante volte si addormenta, quindi sotto questo aspetto è stata attaccata al film fino alla fine. Ripeto, secondo me il cast è stato azzeccatissimo, perché comunque hanno voluto ricreare un principio di Nathan Drake, tutto come agli inizi, e voi verrete tranquillamente coinvolti, non prenderete neanche un pezzo, logico, per poter affrontare questo tipo di film, guardare questo tipo di film, dovete aver giocato per forza di cose al videogioco della Naughty Dog. Però se avete fatto questo e poi andate a vedere questo film, capirete veramente tante cose, e capirete soprattutto lo sforzo e anche la qualità del film, secondo me. È una conseguenza. Io poi l'ho visto con il Bombarde, quindi sono stato ancora più coinvolto, visto che comunque lui è un amante come me di Uncharted, quindi siamo andati sul sicuro andandoci a vedere questo tipo di film, sapendo che comunque è una saga che a noi piace. Niente, grazie, io penso che mi avete detto tutto quanto, io per quanto mi riguarda, ho dato una possibilità al film, e soprattutto cerchiamo di cominciare a vivere, perché come dicevo prima, il Covid ci ha un attimo accomodati, e non siamo più gli stessi, la nostra vita comunque è fatta anche di queste piccole cose, andare al cinema, stare insieme agli amici, e vivere, uscire, e goderci l'aria aperta, senza aspettare che comunque le cose arrivino a casa, belle e comode, pagando un abbonamento semplice. Quando lo capiremo, magari sarà troppo tardi, però io preferisco dirvelo direttamente, perché è una cosa che penso. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, allora, ripeto, vi fosse piaciuto il contenuto, supportate il format, mi raccomando, mi aspetto tanto da voi, ci vediamo giovedì, tecnicamente per un nuovo video del blog dello strano, vi aggiornerò comunque sempre sui miei social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, vi auguro una buona giornata, e soprattutto, buon game a tutti, ciao ragazzi, ciao ciao.